Siamo nel parco di Ueno, stiamo andando a vedere un santuarione, l'Anna sta sorseggiando il suo caffè sciaccherato che abbiamo preso da Asporto e c'è molto caldo, però oggi è una giornata splendida. Questa è la via per arrivare al santuario, dentro il parco di Ueno, ne abbiamo già visto uno, c'è veramente in questo parco di Ueno c'è un concentrato di cultura e di religione, ci sono i maggiori musei, quello nazionale, del Giappone, quello della natura, scienze naturali, c'è quello dell'arte, c'è dell'arte sia occidentale, che è giapponese, c'è veramente tantissimo. E' una giornata bellissima, ieri pioveva, oggi abbiamo le nostre belle scarpe, in cui voliamo da una metà all'altra, qui abbiamo visto delle bellissime fontane, non c'è moltissima gente, meglio, è un giorno feriale e questo santuario si presenta molto bene, molto carino dalla fotografia, non siamo voluti a vederla, penso sia scintoista, perché non abbiamo visto Buddha in giro, né lanterno, né giganti, né niente. Eccolo qua, c'è la pagoda, c'è tutta la parte tecnologica, devo dire che anche le religioni sono tecnologiche, qui c'hanno schermi, c'hanno cos'è, probabilmente non si possono più fare le cose mie. Ciao picciolino, mettiti lì, ti faccio foto.